Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori, siamo sempre qui in diretta su Radio Gloria Il Meiche. Vi ringrazio a tutti quanti per avermi ascoltato sulla radio e su YouTube. Mi è stato chiesto se sono il quinto dei cugini di campagna. Beh, veramente io sono un nipote di campagna e poi oggi mi è successa una cosa molto strana, a me e al DJ Nico. Beh, sono andato a trovare il mio amico, il Papa, e poi ci siamo affacciati alla finestra ed era pieno di gente che ci applaudiva al DJ Nico e al Papa. E beh, però la gente diceva, ma chi è quello vicino al DJ Nico? Beh, DJ Nico!